Arriva un momento nella vita durante il quale ci si inizia a sentire insoddisfatti come schiacciati da un coperchio verso il basso e questo accade quando ogni traguardo che tagliamo non si manifesta così soddisfacente come ci aspettassimo ogni obiettivo non riesce a completarci così corriamo e corriamo verso il prossimo ed è proprio mentre corriamo che iniziamo a temere che il tempo che ci è stato concesso non sia sufficiente per sentirci veramente realizzati e che la realtà è che si sia destinati a correre senza alcuna meta per sempre Marco sei sempre come prima